3, 2, 1 partiamo, inizia la nostra vacanza, home tour della nostra casa al mare, e beh, lo so, è il solito polpettone che ci propinano di anno in anno, però l'alternativa a tutto questo è un tutorial di calogero che ci insegna come recuperare dai rifiuti una lavatrice e trasformarla in una macchina del tempo. E vedi? Allora, iniziamo con quella che è stata la preparazione della valigia. Prima grande novità di questa estate 2023 è proprio il fatto che di valigie ne hanno portate solamente una, formato sarcofago, da un lato tutti i completini da chiappo di Davide e in un sacchetto a parte le mutande varie ed eventuali, mentre nell'altro lato del sarcofago, ops, valigia, abbiamo i vestitini sexy by sheen di Chiara, i costumi sbarazzini e anche dei capi estremamente eleganti, tipo che, un attimo che vengo a raccontarvi, tipo un abitino nero con gonna svasata tutto tempestato di candide perline, un altro azzurro con tutte le farfalle a rilievo e uno blu in pizzo. Quindi domani mattina, che poi è anche il giorno della partenza, si piazza il beauty e la valigia è bella che pronta. Poi il vlog riprende direttamente dal giorno dopo, lei ha già sul costume, giusto è il tempo di prendere i sacchetti trasparenti per il frigo e si parte. Ora, qui qualche utente più sprovveduto potrebbe chiedere, ma a cosa servono questi sacchetti trasparenti per il frigo? Beh, dovete sapere che loro, come tutti i VIP, hanno i loro vezzi. Il loro, in questo caso, è quello di portarsi dietro dei sacchetti trasparenti in cui, scherzosamente, ci riversano dentro gran parte dei prodotti offerti ai buffet dei vari hotel dove comunque alloggiano, facendoci così colazione, pranzo e cena. Ma questi sono dettagli pucciosi. Come sempre accade, la coppia milanese si rimbalza i contenuti. Lei la preparazione delle valigie, lui il viaggio da casa alla meta misteriosa e, di fatti, ce lo ritroviamo all'autogrill. E quindi, solita panoramica patetica dei prodotti esposti, di cui poi non comprano mai niente, e poi il vlog continua direttamente dall'appartamento che hanno preso in affitto. Avide ha un taglio di capelli imbarazzante, rasati a zero ai lati e lunghi nella parte centrale della testa. Sembra scappato dal set del film L'ultimo dei Moicani. L'appartamento ha l'angolo bagno, tac, l'angolo cucina, tac, l'angolo relax, tac, e l'angolo notte. Ma non è tutto, perché abbiamo inoltre un secondo bagno e due terrazzini, uno di cui fornito di vasca jacuzzi. Questo potrebbe voler dire che c'è possibilità di un remake di Visabella Hot. Allora, per quello che si è visto nel vlog, il terrazzino, quello che è in comune dove è presente la vasca jacuzzi, è messo molto meglio rispetto a quello loro privato, che si presenta con il pavimento abbastanza dissestato. Ma andiamo alle cose serie. Ci troviamo a Moneglia, in un tre stelle da urlo. Mentre la figona ci descrive le camere, i vari arredamenti, il bagno e quant'altro, c'è Davide che per tutto il tempo ripete, è una bella struttura, è una bella struttura, è una bella struttura. E adesso andiamo a quelle che sono state le direttive del proprietario dell'appartamento. Allora, la jacuzzi non si può usare dopo le otto di sera, dice, è perché? Beh, è perché loro è successo che non si può usare, ha detto. E poi la parola passa al nostro tuttologo Davide, che ci racconta cosa ne pensa lui di questa ennesima avventura. Allora, lui rispetto alla figona ha già un po' più i piedi per terra, perché cosa dice? Dice, sì, l'appartamento è arredato con dei mobili un po' datati, le piastrelle sui terrazzini sono in cattivo stato, però tutto sommato il posto è pulito. La struttura è silenziosa, e beh, certo, ci sono solo loro lì. E in pratica il succo del discorso è che non hanno trovato di meglio. Bene, finito questo strazio, ops, ho detto strazio, volevo dire bellissimo vlog. Passiamo a quello che è l'ultimo vlog proposto dalla coppia satanica. Vlog che porta per titolo, inizia la nostra vacanza finalmente al mare. E giustamente, dopo un anno intero di lavoro, ci stava benissimo. Il video inizia alle 3.30 di pomeriggio, e i nostri due temerari si accingono ad andare in spiaggia. Ci vanno a piedi e ci mostrano anche un po' le stradine. E poi lei gli indica, dice a chi, e beh, a me, sveglia, sta con Davide, a Davide, che da quella parte c'è un cinema, quindi ci sarebbe la possibilità di andare a vedere il film di Barbie. Ma lui non appare molto felice della cosa, e beh, forse gli piaceva andarci solo con Antonella. Poi la mente viaggia, riaffiorano i ricordi, e quindi è meglio evitare. La passeggiata continua fino ad arrivare in spiaggia, dove non riescono a trovare posto in prima fila, data l'ora, e poi il vlog riprende dal giorno dopo. Siamo alle 7 di mattina, lei si è appena svegliata e ci rinquadra nuovamente la Yakuzy. Poi ritorna in camera, dove c'è Davide che ancora se la dorme. Lei gli apre la finestra, la sbatte con decisione e poi si dirige in bagno, dove espletati tutti i bisognini mattutini, livello 1 e 2, indossa il costume, e poi il vlog riprende direttamente dalla spiaggia, dove finalmente hanno trovato posto in prima fila. E lei ne approfitta per raccontarci che proprio lì in spiaggia c'era un suo grandissimo fan di TikTok che le si è avvicinato, tutto tremante per l'emozione di aver visto da vicino la sua idola e le ha fatto tanti ma tanti complimenti. Ebbè, ok. Ora, l'idea sarebbe quella di procurarsi un cavalletto e piazzarlo lì in prossimità del mare, così che loro possono riprendersi mentre sono avvolti dalle magiche onde. Ma in attesa di queste strabilianti riprese, vanno a fare il bagno mano nella mano. Le acque sono inizialmente un po' fredde, poi il primo piano di Davide, con quei capelli terrificanti. Peluria sparsa che gli copre i meravigliosi tatuaggi, lei canticchia, ride isterica, beh, forse conseguenza del troppo sole. Guarda le nuvole e ci vede dei draghi con degli sfiatatoi sulla schiena, beh, infatti poi ritornano all'ombra del loro ombrellone. Davide si distende. Ed io, anche disteso, ha una pancia enorme e ci mostra la posizione a d'uovo sbattuto. Vabbè, va, caliamo un velo pietoso sulla faccenda e torniamo nell'appartamento spartano. Siamo sul terrazzino, quello privato, hanno apparecchiato per pranzare all'aperto con focaccia normale, focaccia con cipolla, pizzetta e del pane. Quindi tutto quello che serve per fare un pranzo veloce ma gustoso al tempo stesso. Il programma è quello di fare poi una doccia, un riposino, così da poter programmare con tutta calma l'effervescente serata a Moneglia. Bene, e anche questo vlog si conclude. La figona ci saluta e ci dà appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. E quindi, finito il suo vlog, relativamente finisce anche il mio. A me non resta che salutarvi, augurarvi buona continuazione di giornata, darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto, ma nel frattempo che succede tutto questo, un bacio a tutti da Gossi. Grazie. Grazie.